1 aprile 2012, eccola la data che ha segnato la svolta rispetto agli appalti per la raccolta dei rifiuti in città. Sì perché dal 1 aprile Asia-Napoli resta l'unico ente a cui è demandata l'organizzazione e l'esecuzione del servizio. Bella notizia, dopo anni la città di Napoli è un'azienda di igiene urbana al 100% nelle mani del comune. Non ci sono più privati, non c'è più il sistema degli appalti e subappalti che hanno condizionato la vita della città per oltre un decennio. Col 31 marzo si è chiusa definitivamente questa pagina, se ne apre una nuova, quindi si può meglio organizzare il servizio di raccolta e di spazzamento dei rifiuti nella città di Napoli e si può guardare anche alle innovazioni che vanno inserite all'interno di un sistema moderno di raccolta e di gestione dell'igiene urbana di una città come Napoli. Quindi questa è una bella notizia, nonostante le polemiche dei mesi scorsi, finalmente grazie al lavoro e alla volontà dell'amministrazione comunale e della dirigenza dell'Asia che abbiamo chiuso questa pagina. Soddisfazione è stata espressa anche dal numero 1 di Asia, Raffaele Del Giudice, che in una nota ha precisato Napoli ha finalmente un servizio completamente pubblico a garanzia di un profitto sociale liberato dallo stagio di un'operatività privatistica non sempre garante delle esigenze di raccolta della città, ma è più il rischio di atti intimidatori, così come mai più il rischio di ritrovarsi ostaggio di pretese inaccettabili, ma condizionanti per la regolarità del servizio offerto alla cittadinanza, concluso del giudice. Asia-Napoli dunque coprirà tutte le esigenze operative della città con il solo contributo dell'amministrazione comunale.